Buonasera, bentrovati. Il prefetto lo aveva annunciato fin dal suo insediamento e la promessa è stata assolutamente mantenuta, cioè la ricostituzione del tavolo provinciale che raduna tutte le principali istituzioni, autorità, d'attore di lavoro ma anche sindacati, protezione civile, forze dell'ordine, vertici del sistema giudiziario, insomma tutti gli attori che devono contribuire a maggior sicurezza, alla difesa dei lavoratori, al contrasto, al disagio giovanile, uno dei punti su cui il prefetto Pasquariello più insiste. Ebbene, questa mattina in una gremita Villa Recalcati si è svolta la prima ufficiale riunione di questo ricostituito organismo. I dettagli. Lotta al degrado sociale, sicurezza sul lavoro, contrasto al disagio giovanile, gestione dei profughi in fuga dall'Ucraina. Materie più che attuali, difficili, dense di ostacoli e criticità che per essere affrontate in modo efficace necessitano di coordinamento, condivisione e azioni comuni. Questo è l'obiettivo del tavolo provinciale del quale appena insediato il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, aveva annunciato la ricostituzione e che oggi a Villa Recalcati ha vissuto una sua prima giornata ufficiale. Credo moltissimo in questa conferenza provinciale permanente perché è un raccordo tra tutte le amministrazioni periferiche dello Stato che operano in questo territorio provinciale ed è anche un modo di collegamento con gli enti locali e con le autonomie territoriali nell'attuazione del principio di leale collaborazione sancito dalla Costituzione. Presenti autorità politiche e istituzionali, amministrative e associative, datoriali e sindacali, forze dell'ordine, vertici giudiziari al fine di offrire alle delicate materie in oggetto un accurato sguardo d'insieme, una pratica che a livello regionale ha già dato buoni frutti. È una collaborazione assolutamente complessiva che sta dando dei risultati veramente ottimi. O mi permetto di ricordare un altro evento che ritengo significativo, la collaborazione che si è avuta per cercare di eliminare quella vergogna che era il parco di Rogoredo, il parco della vendita di droga a Rogoredo, dove anche in quel caso ci fu una collaborazione fra forze dell'ordine, prefettura, questura, ATS, assistenza sociale, in modo di cercare di intervenire a tutto tondo. Sul fronte dei giovani, un campo su cui il prefetto ha promesso massimo impegno, approda a Varese il format di ragazzi on the road, già sperimentato in altre province e finalizzato a coinvolgere gli studenti nella carne viva della quotidianità. Noi crediamo che oggi uno strumento importante possa essere quello della consapevolezza. Bene, questi ragazzi vivono l'esperienza in centrale operativa, in doppia cuffia, quindi sentono l'attivazione del soccorso, possono, grazie ad Areu, salire sui mezzi di soccorso, chi in ambulanza, chi sull'automedica, arrivare sugli scenari di intervento. Possono questi ragazzi affiancare la polizia locale nel loro servizio, ovviamente come meri osservatori, nel rispetto della privacy e ovviamente nel rispetto di quello che è il segreto d'ufficio. Questa esperienza ha coinvolto in questi 15 anni circa 800 studenti e li ha portati direttamente appunto a vestire i vostri panni, ad immedesimarvi appunto in quello che siete voi, quello che è l'istituzione. E ancora la piaga degli infortuni sul lavoro da contrastare facendo tesoro delle buone pratiche e incrementando la cultura della sicurezza. Come CGL Cisle Will della provincia di Varese abbiamo insieme alle associazioni datoriali, insieme all'INAIL, insieme al Proveditorato, insieme ad altri soggetti, lungamente provato a mettere in piedi dei programmi, dei progetti per provare a migliorare quella che è proprio la cultura della sicurezza. Vuol dire giocare nel campo della prevenzione, vuol dire provare a valorizzare anche le tante esperienze che sul territorio ci sono. La siccità fa paura, è vero che per le prossime ore qualche temporale è previsto, però non basta un acquazzone, anzi spesso vista la violenza dei fenomeni rischia di fare peggio. Servirebbe qualche giorno di pioggia costante, magari anche fine e delicata, ma continua. Lo ripete instancabilmente Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, che è il gestore unico del servizio idrico in provincia di Varese, preoccupato dalla situazione del territorio, in particolare dalle condizioni di una ventina di comuni veramente assetati. L'intervista. Autobotti, tanniche e sacchetti, in attesa di una pioggia che non sia breve, impetuose devastante, bensì lieve e costante per almeno qualche giorno. La società Alfa, gestore unico del servizio idrico in provincia di Varese, aziona il suo piano di emergenza anti-siccità e si attiva per portare acqua ai comuni pericolosamente a secco, in prevalenza ai più piccoli, distribuiti nell'alto Varesotto. Paradossalmente si pensa sempre che le zone a nord ricche d'acqua con le sorgenti siano quelle meno esposte, invece è esattamente il contrario, la morfologia del territorio fa sì che queste siccità non consentano al terreno di trattenere per lunghi periodi l'acqua e quindi le sorgenti già in questo momento stanno restituendo il 70% o meno della risorsa idrica. Da qui l'esigenza di passare all'azione. Alfa ha già predisposto un piano di emergenza andando anche a costituire all'interno dell'azienda un team dedicato. Il piano d'emergenza consiste nell'approvvigionamento eventuali di quei comuni che dovessero andare in difficoltà di autobotti e di sacchetti d'acqua da distribuire nelle singole case. La situazione appunto non è delle migliori, anzi noi la definiamo quasi drammatica. Il nostro piano vuole intervenire su circa una cinquantina di comuni che previdiamo essere a rischio, soprattutto in 18 comuni dove la situazione è già emergenziale, dove stiamo già cercando di razionare l'acqua nelle ore notturne. Speriamo tutti nelle prossime precipitazioni ma se queste non dovessero avvenire dobbiamo tutti prepararci purtroppo a fare dei sacrifici. Abbiamo seguito con interesse un convegno che si è svolto ieri a Varese che ha affrontato il tema della casa a 360 gradi guardando a un nuovo concetto dell'abitare, del costruire, del progettare anche sulla scorta del covid ma non solo. I dettagli? Una casa da abitare certo ma anche da ripensare, ridisegnare, adeguare alle traiettorie del presente, alle prospettive future con un occhio alla sostenibilità e l'altro ai servizi sempre più aperti, funzionali, condivisi. È l'universo abitativo accolto dal dibattito di Aredo Più organizzato con l'associazione Edili e la partecipazione di tanti addetti ai lavori. Partendo da una premessa metter su casa non significa più procurarsi un tetto con quattro mura ma riflettere in uno spazio la propria indole. Perché l'acquirente non va a comprare un manufatto edile ma va a comprare una casa per cui tutto quello che vuol dire casa, vuol dire comfort, vuol dire aspirazionale, cioè vuol dire anche è una protesi anche edonistica importante perché lo status è una bella casa arredata dichiara apertamente il tuo status. Un po' biglietto da visita e un po' nido, fortezza, rifugio, un mix di tecnologie e di competenze al servizio di tradizionali e italiche certezze. Devo dire che negli ultimi anni, in particolare dopo il post-covid, questo ambiente ha avuto un grande ritorno come il vecchio concetto del focolare, quindi la cucina è sempre stata in realtà un trend che ha seguito le tendenze o le esigenze del consumatore. Suggestivo l'intervento di Brusa Pasquè, la quale ha ripercorso l'architettura post-covid, sì perché ogni secolo, ai noi, ha avuto le sue pandemie. Dal 600, quando la peste aveva poi fatto scoprire la potenzialità della calce sui muri, che attraverso la sua causticità riusciva ad ammazzare tutti i batteri. Gli spazi come sono cambiati? Gli spazi sono cambiati, per esempio, faccio un esempio, anche negli anni 20, anni 30, la tubercolosi ha cambiato attraverso i sanatori, creando spazi molto grandi, con porticati, con vetrate molto ampie, ha condizionato l'architettura moderna. E così anche in altre epoche, cioè l'architettura si è plasmata a seguito di queste pandemie. Anche adesso noi vedremo questo cambiamento, perché avremo tante case e tanti condomini con molti più terrazzi. Noi porteremo la campagna in città. Importante è la riflessione del coach Pimpinelli sull'effetto smart working e didattica a distanza, tradotto nell'esigenza di adeguare gli spazi di casa e soprattutto distinguerli. Chi era solo è rimasto molto solo, chi è in famiglia a volte è stata una grande scoperta positiva, a volte è stata una sorgente di stress pazzesca. E il punto è che noi abbiamo passato la pandemia, in cui siamo stati forzati, ma per tantissime persone una modalità di lavoro ibrido, in cui si sta un po' in ufficio, un po' a casa, sarà il futuro. E se l'architetto Rudy Manfrini insiste sulla doverosa, oltre che necessaria, valorizzazione degli spazi e sul gioco di squadra di una filiera che risponda alla crescente competenza dei compratori, con una realizzazione corale di case e uffici, il presidente di Ance Giovani evidenzia le nuove richieste del presente, spazi aperti e gusto estetico. Abbiamo potuto avere tante persone che hanno voluto riscoprire la propria casa, rimodellarla, ricostruirla e renderla veramente più bella e funzionale. Rinasce il parco delle rimembranze in quel di Busto Arsizio, una rigenerazione urbana che in maniera inedita e chissà forse anche imitata da qui ai prossimi mesi e anni, parte davvero dal basso, perché a studiare, concepire, innescare questa rigenerazione sono stati i bambini delle scuole. Un progetto partito l'anno scorso si avvicina all'ambizioso traguardo che una volta tagliato restituirà alla comunità un polmone verde, un'area di ritrovo e auspicabilmente un pezzo di città meglio frequentato, più curato, più coccolato. Sotto alle insegne di Busto Revolution si annida una formula che in futuro potrebbe fare proseliti, ripensare dal basso la rigenerazione urbana di alcuni spazi pubblici, affidandone la cura ai ragazzi delle scuole, nel caso specifico agli alunni dell'Istituto Verri e dell'Istituto De Amicis, che al parco delle rimembranze nel quartiere Madonna Regina hanno dedicato una ricerca storica, un questionario aperto ai residenti e, con l'aiuto del consigliere Orazio Tallarida, un piano condiviso di sistemazione e nuove piantumazioni. A giugno l'evento inaugurale. Intanto perché sono delle metodologie innovative che stimano i ragazzi e che hanno sicuramente un risultato positivo ancora di più nel momento in cui questo si realizza con l'effettiva presa in carico di un parco che, se solitamente non è sempre ben frequentato, ci si auspica che col fatto che sia stato preso in cura proprio dai ragazzi anche gli altri abbiano un maggiore rispetto per quello che in questo momento c'è nel parco. come non essere orgogliosa di queste iniziative, l'ente comunale e io in particolare come assessorata alla pubblica istruzione sono orgogliosa e fiera e auspico sempre più progetti di questo tipo che aumentano la consapevolezza sia degli studenti coinvolti ma anche probabilmente dei coetanei in giro della città. E a proposito di ragazzi attivi in società, quello che vedete alle mie spalle che adesso Deborah Banfi vi racconta è un murale su un'opera artistica che gli studenti di Gallarate hanno dedicato alla lotta contro ogni forma di criminalità. hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la giustizia oggi sono grandi esempi di coraggio è dedicato a Peppino Impastato e Rita Atria il bel murale serializzato dai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria Padre Lega di Cedrate a Gallarate L'opera, resa possibile grazie alla supervisione e al contributo della professoressa Noemi Silvestrini e di un attivo gruppo di insegnanti vuole trasmettere a chi la osservi i valori di legalità e libertà Per i nostri studenti, spiega la professoressa Boccato la mafia ha sempre rappresentato qualcosa di lontano grazie al lavoro fatto negli scorsi mesi attraverso letture e lezioni e grazie alla realizzazione del murales hanno potuto scoprirne le origini e conoscere da vicino la storia di chi ha sacrificato la propria vita per combatterla Per loro la mafia è qualcosa da telegiornale invece così, vedendo che queste storie si sono incarnate in ragazzi poco più grandi di loro o comunque con realtà che avevano a che fare con i ragazzi sono entrati nei loro panni e alcuni hanno fatto anche delle lettere abbiamo fatto scrivere delle lettere a questi personaggi molto sentite in cui ringraziavano e si sentivano come dire di dover un pezzetto della loro libertà e della loro serenità anche questi martiri non volontari naturalmente però che hanno reso questo problema molto conosciuto e quindi combattuto anche avevo sentito parlare a lettera giornale però non avevo mai fatto delle lezioni su questo argomento così importante Io sapevo già di dei personaggi ma molto famosi come possono essere Falcone e Borsellino ma di personaggi così non avevo mai sentito parlare e scoprire anche che così tante persone sono morte mi fa veramente ribividire anche per noi genitori aggiunge Cinzia Spanò presidente dell'Associazione Genitori dell'Istituto dei Amicis questo lavoro ha rappresentato motivo di orgoglio insieme ai nostri ragazzi abbiamo potuto affrontare tematiche delicate ma fondamentali per la loro crescita è un orgoglio che viene trasmesso non solo ai ragazzi e dai ragazzi ai loro coetanei ma anche a noi genitori perché crediamo fermamente che non vada dimenticato il valore che queste persone hanno dato e che fanno parte della cultura purtroppo talvolta negativa ma sempre parte della nostra storia di queste persone e dell'impegno che hanno messo nel coraggio di affrontare tutte le negatività ecco io credo che i ragazzi abbiano fondamentalmente imparato che bisogna lottare per i propri ideali che bisogna credere fermamente che la giustizia abbia la meglio anche in situazioni così brutte e negative tanti di noi vivono una vita impegnativa un po' stressante tra appuntamenti, riunioni, incontri agende sempre più fitte a volte è una necessità talvolta è anche un modo di fuggire da sé e questa almeno è l'opinione di Erika Minazzi la psicologa di fiducia di Rete55 che lunedì ne parlerà diffusamente nella sua pillola delle 20.10 fermarsi è un esercizio a mio avviso sempre molto terapeutico in taluni casi assolutamente costellato da sofferenza ma è l'occasione in cui si può giungere a fare un pochino così i conti con se stessi se quando ci si ferma il cuore comincia a battere l'ansia comincia ad arrivare vale la pena chiederci cosa ci sia a monte e non tanto ricominciare senza tregua a risalire sulla giostra dei vari impegni ma chiedersi se questa giostra è una sorta di tappeto sotto cui si annida polvere che vale la pena essere spazzata fuori o se su questa giostra vogliamo inchiodarci per tutta la vita non tutte le giostre sanno essere divertenti un'agenda davvero ricca di spettacoli ma anche di grandi nomi del teatro, del cinema della televisione più in generale del mondo che intreccia cultura e spettacolo quello in programma ai Giardini Estensi quindi in una cornice già di per sé spettacolare è presentato questa mattina Un'estate di teatro e di prosa è quello in programma ai Giardini Estensi di Varese dove andranno in scena tre spettacoli che vedranno protagonisti altrettanti grandi attori Luca Zingaretti, Fabrizio Gifuni e Giulia Lazzarini le prime due date si terranno a giugno l'ultima a settembre a rendere possibile la rassegna organizzata dall'amministrazione comunale la collaborazione con il teatro Elfo Puccini Oggi presentiamo una proposta di grande teatro di prosa da mettere in scena qui ai Giardini Estensi presso la terza struttura tra giugno e settembre sono tre grandi interpreti Luca Zingaretti Gifuni e Giulia Lazzarini che interpretano tre grandi testi legati a tematiche del presente o evocativi di poesia e letteratura è una proposta che abbiamo pensato di fare perché mancava questo tipo di azione culturale nella programmazione varesina l'abbiamo inserito è una grande occasione per la città è una grande occasione per i varesini ed è una grande occasione anche per il futuro teatro di Varese e per lo sport vi raccontiamo di Bianco Blu il nostro settimanale della Pro Patria affidato direttamente ai suoi tifosi che tra l'altro oggi nella puntata in onda stasera ha ospitato uno dei principali supporter dei Tigrotti Gigi Farioli sono al corrente della cordata chiamiamola così bustocca che qualche giorno fa rappresentata dall'ex Tigrotto Alberti ha avuto un incontro con la proprietà napoletana rappresentata dall'avvocato Muro da Citarella ho letto e sentito di disponibilità che prima venivano negate a una trattativa ho letto e sentito anche della convinzione che questo processo e questo progetto possa avere sortite positive è chiaro che questo sarebbe auspicabile da parte della città perché sarebbe un'idea di una cordata locale che possa essere più interessata anche emotivamente e appassionatamente alla Pro Patria che non ad altri tipi di interessi devo dire per amor di verità che io ho avuto sentore di altri interessi maturati a Bergamo piuttosto che in rapporto con altri imprenditori locali di cui so solo per correttezza per riservo e per naturale discrezione di aver girato i contatti a chi oggi fa parte dell'accordata di Gusto Alsizio e a chi come l'avvocato Muro e Citarella può essere un interlocutore ecco, ricostruendo quindi in questo momento c'è la cordata locale con Alberti che possiamo vedere la fotografia di Alberti che è il capo cordata che lavora nel è un imprenditore 45 anni lavora nel settore ha delle società nel settore delle investigazioni ma anche nel settore della ristorazione dei locali delle gelaterie ad esempio è socio anche nella nuova gelateria di Piazza Santa Maria oltre a tante altre attività a parte la cordata locale un'altra cordata è quella piemontese un imprenditore piemontese che è interessato a rilevare il 51% e poi c'è il sentore di un altro interesse quest'altro interesse non è ancora uscito sui giornali è l'interesse di una cordata toscana che è stata portata tramite un noto imprenditore bustocco che è interessato e questa cordata toscana ha già provato a rilevare il lecco non hanno trovato l'accordo non si sono piaciuti con il lecco e quindi adesso potenzialmente potrebbero essere interessati alla propatria e anche per stasera è tutto grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti